Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video accettato Ok, siamo tornati in un nuovo video dopo Dopo una settimana Io mi sono tagliato i capelli E vai Va bene Sto rischendo la vita perché sta cadendo quasi la polocamera Però niente Beh, infatti non scuso tanto però la prossima settimana cominceremo A fare video serio Il mio primo sembrava ieri col danosa cosa sento L'apice della carriera con il Wolverhampton Cosa ho detto? Comunque ragazzi, non sto facendo più video Cioè ragazzi è andata la settimana Non faccio capire che da qua 10 minuti Non faccio sentire video Quindi è una settimana Ma ormai fa caldo qua dentro È iniziata la scuola Detemi come è andato il primo posto Primo giorno Ah, lo dobbiamo giocare È andata bene Sì O Oppure N Ha fatto una caduta Ora Non mi ha neanche immaginato Comunque ho impendi tantissimi Perché calcio Musica Cioè strumento È piscina E compiti Cioè quattro cose Sono avete tanti I video È come relax Perché per me I video li faccio solo sabato E domenica È una sera Non lo posso mai fare E relax È già È tanto che li metto Perché sarà anche impossibile Metterli Però Spero Che i video Vi stanno piacendo Adesso Prego Mi tornerai Scherzi alla mia famiglia Quindi Vabbè Vediamo già Il peggio Vediamo che Non ha Quasi tutto Ragazzi Iniziamo una serie prank Qualcuno forse l'avrà vista Come no Però Dopo Eliminate il video Perché mi hanno pagato Per fare una cosa Quindi Eliminate il video Quindi A vedere Lo rimetterò Quindi Vedete Perché ho fatto prank Livello easy Vabbè Quindi ragazzi Spero Che il video Si rivolgerà A fare video Sul serio Prima di concludere Il video Vorrei dire che Domani Cioè Domani Io Registrerò La Life Therapy Day Farò un video Quindi ragazzi Aspettatevelo Domani Cioè Andrò a scuola E poi la scuola Dopo la scuola Farò Il video Però Cioè Domani per me Domani è venerdì Però la Life Therapy Day Sta da martedì Però io la faccio domani Perché la volevo fare Però non ho avuto Tempo da farla Domani si fa Perché Registro Almeno un video Così La Life Therapy Day Uscirà Sabato Ragazzi Quindi spero Che vi sia piaciuto Vi ringrazio Tutte Quella Ci vediamo Sabato Per il prossimo Perché domani Non faccio uscire Nessun video Provo per La Life Therapy Day Che già è stata fatta Ma io non l'ho fatta Però la voglio fare Ragazzi Usirò Sempre la fotocamera Per registrare Quindi Ho cominciato a dire Come avete fatto A Steppity E anche forse A Joker Non lo so E Ho cominciato a dire Ma tu stai usando La fotocamera E Internet Staccamento Dei social network Dei whatsapp Instagram Facebook E Youtube Quindi io Non userò Questo Non è che non userò La fotocamera Non è che non userò Per vedere L'orologio Però Tutto questa cosa Quindi non userò Whatsapp Facebook Internet Google Tutti i social network Instagram E Whatsapp Spero che il video vi sia piaciuto Perché Grazie a tutti Per la sua Ci vediamo domani Per il prossimo No Dopodomani Per il prossimo video Ciao 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 Ciao